Allora, io sono Emisa e io sono Ennio e voi state guardando Elias World! Il video di oggi è Mary Kiss Kill, si chiama, sì, tag. Abbiamo preso un bellissimo bicchiere di Starbucks in cui abbiamo messo tantissimi bigliettini, come potete vedere in questi bigliettini ci sono nomi di personaggi, attori dei serie di V, attori, non lo so, personaggi di libri, vabbè, comunque, qualsiasi cosa dobbiamo decidere appunto se sposarci con questo personaggio, ucciderlo oppure baciarci. Iniziamo il video! Anzi, no, sono... Due... Cosa faresti con questi personaggi? Ok, allora... Verrà che no... Demon Salvatore! Già lo so! Mitio, è difficile! Channing Tatum, oddio! Eh? Che è difficile! James Wan! Ma è difficilissimo! No, 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 io mi sposo tutte, tre! Non puoi! Milla, ma no! Io già so che ucciderai! Il mio povero cuore! No, io uccido... Channing! Ok, va bene! Uccido Channing! Ora sposo, Jace Wayland o Demon Salvatore? Mi dispiace Demon, ma Jace è nel mio cuore, quindi sposo Jace, bacio Demon! Vabbè, Demon verrà da me! No, lo vado a bacione io però, prima! Eh, ma poi lo sposo io! Eh, purtroppo, purtroppo, uccido! Channing! Mi dispiace! No, no, faccio io! Ok, vabbè! Vabbè, non si dice stessa cosa... Vabbè, non si dice stessa cosa... Vabbè, non si dice stessa cosa... Allora... 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 Ho già deciso, è troppo facile! Allora, uccido Sebastian perché so che ha fatto delle... Delle cose orrende, orribili e freddi, sì... Però so che piace a molti come personaggio, è proprio un bel personaggio, quindi... No, no, no! Bacio Tobias perché io l'odore e tutto! Ovvio, ovvio! Vabbè, se non sapete chi è, è 4 di... Divergent! E poi, ovviamente, mi sposo Justin Bieber, il mio cuoricino, il mio amore! E mi sarà un matrimonio felice! Faccio fatto con il mio guardia di tutto! Damone e Fimile Justin! Non ne passi! Ok! Vale... Sono tanti di... Di cosa? Di Shadowhantes! Valentine Morgan, Stan! Mi chiedo che chi ne farà! Il cattivo di Shadowhantes! Mi chiedo che chi ne farà! Poi... Ryan Gosling... E... Liam Hemsworth! Liam Hemsworth! Oh mio Dio! Chissà chi sposerà! Chissà! Chi sceglierò! Allora, ovviamente, ho ucciso Valentine, mi dispiace, non mi interessi. Bacio! No, come? Come può non interessarti... Quei grand'uomo! Quei grand'uomo! Per favore, che schifo! Allora... Ryan Gosling, lo bacio! E sposa il mio bellissimo Liam! Come te lo dico, Mikey! Perché io lo voglio! Non c'è una Trisome! Comunque... Andiamo avanti! Cioè, non c'è ancora c'è un altro turno per me! Abbiamo... Voldemort! Chissà chi che ne farà! Poi... Doctor Doom... E... Lucky! Addio, Voldemort può morire per me! Chi se ne prega! Poi, bacio il Doctor Doom! E che sei un pochino! Vabbè, che schifo! E ovviamente sposa Lucky! Ma quindi io oggi sposo... Io oggi sposo Chase Wayland, Liam... Cioè, che marini! Sai, io proprio... Io sposo Lucky! Sai, proprio! E... Non potremmo diventiamo Justin Bieber! Comunque! Siccome sono rimasti gli ottimi 3, abbiamo deciso appunto di... Praticamente entrambe! E decidere che cosa faremo di questi! Decidiamo insieme, quindi io ne apro uno, ne apro ne ho un altro! Allora, Stefan Salvatore... Shawn Mendes! E questo che faremo? Troppo denare, Stefan! Andiamo! Pita! Pita! Pita Mellac! No, io direi di uccidere Pita! Povero Pita, addio! Vabbè, io mi sposo Shawn! Non lo sposo! Sì, eh no, anch'io sposo Shawn! E a Stefan ti devo un bacio! Vabbè sì, dai! Ho preso... No, no dai, Shawn tutta la vita! Comunque le hai fatta con lei! Shawn, non morire! Ecco, Shawn è vivo! Quindi questo era il Mary... Mary... Mary la... La Stuart! La Stuart! Questo era il... Mary Keyskill videotag! Spero che vi sia piaciuto! Era un video anche molto veloce, così diverso dagli altri! E niente, noi ci siamo divertite a farlo! Purtroppo questo non è la realtà, purtroppo! Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace o un commento se vi va! Iscrivetevi al canale per altri video! Ah, e aspettate! Vorrei dire due cose! La prima cosa vogliamo ricordarvi di seguire la nostra pagina Instagram, che abbiamo aperto da poco, ovvero Elia-Word Sotto ci sarà, in descrizione ci sarà il link della nostra pagina E in presenza di Steve, vorremmo salutare tre persone Alessandro, Antonio e Rizzo! Ciao ragazzi, un bacio a tutti e tre! E niente, ci vediamo al prossimo video! Ciao!